Il Comune di Gela dà un'opportunità alle famiglie numerose, che tipo di bando avete messo a disposizione, se ci sono termini e quali le condizioni? Le condizioni sono quelle delle famiglie che abbiano un nucleo familiare composto da almeno tre figli e hanno la possibilità di poter presentare un'istanza scaricabile direttamente al sito internet del Comune di Gela o altresì disponibile presso gli uffici del segretariato sociale, dove chi, ripeto, avesse un nucleo familiare composto da almeno tre figli ha la possibilità di fare un'istanza che viene poi girata dal Comune di Gela agli uffici preposti, dove appunto c'è la possibilità di avere un contributo un contributo rivolto proprio alle famiglie numerose che terrà conto non solo delle condizioni appunto del nucleo familiare inteso come numero di componenti, ma altresì delle condizioni economiche ovviamente che appunto in esso sussistono. Per ricevere dunque questo contributo ci si muove all'interno di una forbice tenendo conto due varianti il numero dei componenti del nucleo familiare e il reddito. Certo, ovviamente questi sono i criteri diciamo di massima che vengono utilizzati proprio al fine di favorire maggiormente le famiglie che hanno un nucleo familiare più numeroso e ovviamente sono in condizioni economiche più disagiate. E gli adempimenti entro quando e dove? Entro il 31 gennaio 2017 basta presentare l'istanza presso gli uffici di protocollo o appunto scaricando dal sito internet o attraverso appunto il modulo presente al segretariato sociale del comune di Gela la listanza può essere presentata presso gli uffici comunali.